Non è stato adottato nessun intervento per ripristinare le condizioni ottimali del torrente Mela. Sono trascorsi quasi due anni dall'alluvione del 22 novembre 2011 e non è stato fatto nulla, nonostante anche questa zona abbia subito notevoli danni. Con queste parole il presidente del Comitato di Bastione di Milazzo, Stefano Maio, si è rivolto al commissario straordinario dell'ESA, Francesco Calanna. Maio, in una lettera aperta, ha fatto il punto della situazione, ricordando come le sondazioni del torrente abbia invaso le campagne, le abitazioni, causando danni notevoli. Nello specifico furono inondate un'officina ed una grossa lavanderia, il ponte sul torrente Mela fu seriamente compromesso e così anche le colture nelle campagne. Nulla è stato fatto per mettere in sicurezza l'alveo del torrente, il corso d'acqua a monte dell'abitato presenta criticità allarmanti, il greto è invaso da vegetazione arborea spontanea, ma anche da rifiute immateriali di risulta di ogni genere, visto che i varchi sono ancora aperti. L'ESA a questo punto, come già accaduto e svariate zone della provincia di Messina, potrebbe intervenire con mezzi meccanici e personale specializzato. Maio ha chiesto a Calanna di farsi promotore di un tavolo tecnico, con i sindaci di Milazzo, Barcellona, Pozzo di Gotto, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela e Merì, il Genio Civile, la Protezione Civile e tutti gli altri enti preposti alla tutela del territorio, per poter definire un accordo di programma e mettere in sicurezza il torrente Mela, dando così risposte concrete agli abitanti di Bastione.